Benvenuti e ben ritrovati a tutti ragazzi, io sono Sig, siete sul mio canale e questo è il solito TellmiSig, lo show dove voi fate le domande e io, come tutte le volte, mi faccio in quattro per provare a rispondervi. Direi di buttarci nel vivo della questione e di partire con la domanda numero uno di AlexXK8FS. TellmiSig, ciao Sig, innanzitutto complimenti per il canale e per i contenuti, dovrebbero darti un programma in tv. Grazie mille caro, ma non è vero mai questa cosa, però andiamo avanti. La mia domanda è, hai mai visto Tremors? Cosa ne pensi dei film barra dello stile dei vermoni e delle mutazioni? Grazie se rispondi. Sì, sì, ho visto Tremors. Allora, ho visto il primo, il secondo, poi ho visto anche quelli in mezzo, non mi ricordo se era uno o due, fino a quello nel Far West. Quello è l'ultimo che ho visto. Vabbè, per chi non lo sapesse, si tratta di una serie di film, diciamo, comici a sfondo un po' horror e grottesco, incentrati su degli strani vermi giganti preistorici che vivono nel sottosuolo e che mangiano le persone sentendole dalle vibrazioni e dai rumori, no? Il primo film è degli anni 90 ed era, sì, una commediola appunto con Kevin Bacon e Fred Ward come protagonisti. E tutto sommato è un bel filmetto, è leggerissimo, divertente, con un po' anche di sangue, di morti, niente di troppo spinto, però qualcosina c'era, super leggero e tranquillissimo, ecco, una tresciatina divertente. Però è diventato una specie di mini cult, diciamo, si è fatto la sua nicchia di appassionati. Poi gli altri sono proprio b-movie, ma veramente scadenti. Ne hanno fatti tanti, mi sa, sette, otto in totale. Io ho visto fino a quello del Far West, che dovrebbe essere il quarto, il quinto, mi pare, ma appunto i sequel erano tutti abominevoli, solo il primo meritava. Le creature in realtà sono un po' curiose, nel senso che ci sono questi lombriconi giganti che vengono su, no, da sottoterra, sentendo le vibrazioni del suolo, che in realtà sono, nel primo film erano, mi sa, proprio analogici, erano pupazzoni giganti o fatti con una CGI embrionale addirittura, non mi ricordo neanche. Poi negli altri film sono comparse anche altre varianti, tipo dei parassiti volanti che vivevano dentro questi vermoni, mi pare di ricordare. Insomma, hanno fatto altri due o tre mostri, ma nessuno è iconico, sono bestiace che, boh, sono fatte per essere uccise a colpi di fucile a pompa, fondamentalmente. Non è che hanno questo gran bel design, capito? Fanno ridere perché sbucano da sotto e ti mangiano praticamente, ma tutto lì, ecco, nasce lì e muore lì la cosa. Pietro Inversi invece chiede, Tell me Sig, ciao Sig, complimenti per il video. Grazie mille anche a te, Pietro. Molto bella la tua action figure di Predator, si riferisce al video vecchio dove l'avevo appunto fatta vedere. Avrei voluto anche io comprarne una, ma alcune costano tanto e non sono poi così appassionato della saga. Volevo chiederti, grazie alla magia dell'editing, riusciresti a mostrare tutta la tua collezione di action figure che hai nella stanza? Oppure è molto difficile farlo? Lo chiedo perché sono molto curioso. Grazie mille per l'ascolto e continua così. Certo Pietro, con la magia dell'editing in realtà si può fare tutto. Quindi adesso io penso a come farti vedere tutte le figure, visto che c'è molto casino nella stanza, ma credo di riuscirci. Guarda, magia dell'editing tra 3, 2, 1... Ok ragazzi, eccoci qui con l'incredibile e potentissima magia dell'editing, altresi detta telefono cellulare. Ora, queste qua che vedete sono leggermente al di sopra dell'inquadratura degli ultimi Tell Me Sig e sono 6 minifigure della linea Totaku. Queste qui si trovavano al GameStop a un prezzo relativamente basso, poi però di punto in bianco sono sparite. Non so se la Totaku è fallita o se semplicemente si è tolta dal mercato europeo. Fatto sta che prima ne avevano tante, poi un bel giorno, anzi un brutto giorno, basta, non ne avevano più. Comunque sono tutte e sei blisterate nella scatola, ancora sigillate, e sono, nel dettaglio mi avvicino, il Teschio Evocato di Yu-Gi-Oh! Il Drago Bianco Occhi Blu, sempre di Yu-Gi-Oh! Mitsurugi di Soul Calibur, questo invece è Jinkazama di Tekken, ovviamente, dannazione, c'era l'etichetta e togliendola ho fatto un casino, ma vabbè, ce la terremo così. E anche qua, altra etichetta sull'Aeracroft di Tomb Raider. E l'ultima invece è Aloy di Horizon. Molto carine le Totaku, buon livello di dettaglio. Diciamo che erano delle controparti degli Amiibo di Nintendo, con la differenza, però, che queste qua non avevano effetti in gioco, erano semplicemente delle statuine da collezione. Ecco. Poi, qui sotto, questo si vede anche nell'inquadratura, lui è l'Urts della Compagnia dell'Anello. è una figure fissa, non snodabile, della linea NECA, che è una linea americana molto famosa, che fa, appunto, figure sia articolate e snodabili, quindi sia fisse e con piedistallo da esposizione. Molto bello questo qui, l'Urts. Veramente molto, molto bello. Livello di dettagli notevole, notevole per essere una figure piccola. la spada faccia piena, piena di particolarità, si vedono le zanne proprio, anche pieghe del vestito, insomma, parti dell'armatura, lo scudo, i piedi, insomma, veramente fatto, fatto molto bene. Ne ho visti pochissimi di questi qua, è stato anche abbastanza difficile da reperire, non è, non è una figure comune, però mi piace veramente un casino. Poi, invece, nel lato destro, aiuto, mi ammazzo, abbiamo il maggiore Cip Hazard di Small Soldiers. Questa qui è la versione, ahimè, però, quella pezzotta, nel senso che è originale, è un giocattolo originale, ma nella versione economica. Questo qui non parla e non è quello proprio figo, scatolato, che si vede nel film. Quello lì, ragazzi, adesso è difficilissimo da trovare e sta tra i 1.500 e i 2.000 euro. Peccato, perché mi sarebbe veramente piaciuto avere quello, però, insomma, ci accontentiamo anche di questo qua. È un po' rovinato, si vede un po' lì la perdita di colore, qualche segnetto, anche sulla granata, sul giubbotto, perché l'ho preso usato. L'ho trovato su Vinted, a un prezzo ridicolo, e quindi non potevo farmelo sfuggire. Si muove un pochino, vedete, lì ci sono le articolazioni delle braccia, gira la testa, muove avanti e indietro le gambe, insomma, si muove il minimo indispensabile. Ecco, l'altra invece era più articolato e aveva un pulsante nel petto qui, o dietro, non ricordo, e se lo premevi, appunto, aveva le batterie e diceva l'iconica frase «Sarò battaglio senza pietà» o una cosa del genere, ecco. Bene, ora ci spostiamo sull'altra libreria. Eccoci qua. Allora, la libreria che vedrete a breve è abbastanza incasinata, non fateci caso, è tutta rotta, vecchia e imbarcata, quindi devo sostituirla e sto lentamente acquistando i mobili nuovi, più grandi, più belli e più curati. Ma adesso, come adesso, è tutto un disastro. Vabbè, comunque, lei è la maga di Dragon's Crown. È una figura vecchissima, questa qua, ci avrà, boh, sette, otto anni. Infatti sta pericolosamente cadendo di lato. Non sono io che gioco con l'inquadratura, è proprio lei che è storta. Si è scollato il vestito, tra l'altro, una volta quel vestito lì era attaccato al seno, infatti il seno non era di fuori come adesso, insomma, è una conseguenza della scollatura, ma scollatura proprio della plastica, non del vestito. Anche il piedistal è un po' sfrisato, l'ho rincollata io più volte perché si stava, stava proprio cedendo. Diciamo che sarà una di quelle che dovrò sostituire a breve perché prima o poi cadrà irrimediabilmente la dietro, tipo, vabbè, ok. Ma anche questa non molto rara, insomma, si trova, bene o male, ce ne sono di tante versioni. Oddio, allora, al tempo ho fatto relativamente fatica perché Dragon's Crown non era conosciutissimo, era un gioco che conoscevamo in pochi quindi non c'era neanche tanto merchandise. Mi pare che l'ho fatta arrivare dalla Cina, dal Giappone, insomma, da Oriente, ecco. Sì, bel dettaglio, ma nulla di eccezionale, ecco. Poi, là sopra abbiamo invece una Devil Lady con anche il pupazzettino incluso, originale della Banpresto con ancora il vecchio logo. Questa qui l'ho presa in una fiera, anche qua abbiamo proprio il blister originale, la scatola originale, non la aprirò mai, mi piace un sacco e vorrei prendere anche Devilman, il personaggio maschio, no? Akira Fudo. Devo trovarlo in buone condizioni perché ne ho visti un paio ma avevano la scatola tutta smangiucchiata e quindi non li ho presi. Appena ne trovo uno decente lo prendo così appunto le farà compagnia molto molto bella lei. Non un gran che di dettagli però insomma penso che sia stato un giochino da tipo boh 10.000 lire una roba del genere quindi non era certo una linea di quelle deluxe iper dettagliate ecco. poi invece qua a destra abbiamo beh Goku che si trova nelle uova di Pasqua che in realtà ragazzi cioè non è neanche così brutto eh ho visto roba ben peggiore di questa però insomma niente di speciale mentre dietro abbiamo uno dei miei pezzi forti questo qui è il generale Grievous di Star Wars Episodio 3 La Vendetta dei Sith in formato Lego Bionicle ovviamente non originale di base non mi piace prendere la roba non originale ma anche questa ha tanti anni e al tempo quando l'ho comprato non non sapevo che ci fossero prodotti originali prodotti non originali prodotti che non hanno i diritti prodotti che rubano i diritti insomma tutte queste cose non le sapevo l'ho visto mi è sembrato fighissimo infatti è tuttora fighissimo cioè guardate che roba e l'ho comprato basta con le istruzioni tra l'altro molto chiare ma sembra proprio Lego cioè alla fine i pezzi sono veramente uguali indistinguibili forse le mani si vede che sono stampate non benissimo ma per il resto è veramente figo anche gli adesivi erano proprio fantastici ecco è bello grande guardate in confronto alla statua di Goku si vede proprio è bello grosso e sta su e ha anche gli artigli articolabili nei piedi e quattro spade laser due verdi due azzurre molto figo il generale Grievous ragazzi mi piace un casino dopodiché qua in alto nella mensola proprio sotto appena sotto al soffitto ho due figure di Ghost in the Shell originali anche queste blisterate e sono del manga però non dell'anime il modello whiteout che è quello lì dietro e il modello harddisk che è motoko con i cavi che si impiantano nel cervello e qui un pezzettino cos'è un robottino non so sono tratte appunto dal manga queste qua non ho mai trovato del merchandise dell'anime del film di Mamoru Oshii peccato perché mi piacerebbe un sacco recuperare la motoko del film o il droide ragno anche molto figo però ho trovato questi e ho detto sai che c'è li prendo subito perché anche queste sono abbastanza rare le ho viste pochissime volte in giro tra l'altro molto ben tenute anche le scatole non c'è neanche uno sfrisetto insomma a parte a parte là quella là sopra là alla E di Shell lì ci sono delle piccole dei piccoli graffietti sulla scatola ma vabbè ce la facciamo andare bene ecco di là c'è il piccolo santuario di Ghost in the Shell con la VHS i manga e il mio libro ragazzi comprate il mio libro che trovate il link in descrizione fidatevi non ve ne pentirete è un'ottima lettura con un'abbondanza tante dose culturale anche poi nicchia diciamo interessante è questa qui qui c'è un po' di tutto allora partiamo con lui quello lì è sempre della linea NECA mi pare non lo so non mi ricordo anche questa abbastanza vecchia come figure è l'armor Batman di Batman vs Superman allora il film fa schifo l'unica cosa bella è questa armatura di Batman che è fighissima ragazzi tra l'altro gli si illuminano gli occhi ha due piccoli led lì però la pila si è tipo ossidata dentro e devo un giorno aprirla e pulire il vano perché ha fatto tutta l'ossidatura l'ho lasciata dentro tipo 5-6 anni e ha fatto reazione peccato spero che funzioni dopo ancora temo che magari i led sono saltati non lo so bisognerebbe vedere ecco sta in piedi ma c'è anche un suo supporto in caso per fargli prendere le posizioni strane tipo quando salta o vola quindi insomma si può appunto mettere in posa e fissarlo su questo gancio di plastica che funziona da piedistallo poi vabbè qua c'è il Predator che vi ho fatto vedere l'altra volta col bastone e tutto quanto sempre linea neca anche lui si muove un po' si muovono le gambe le braccia gli puoi cambiare la testa gli puoi mettere la testa con la maschera insomma è un po' personalizzabile poi là dietro c'è invece Buzz Lightyear di Toy Story questo è originale di fine anni 90 ragazzi ed è purtroppo anche questo la linea economica non è quello figo in scatolato che parla e che dice verso l'infinito e oltre no cos'è che dice sì verso l'infinito e oltre esatto sì quella roba lì purtroppo no questo muove semplicemente le braccia e si alza e si abbassa il casco c'è un bottoncino lì che se lo premi il caschetto si aggancia la cupoletta appunto di plastica trasparente fa da visiera la testa invece poi lo sganci e scompare dietro l'altro costava tanto peccato insomma anche qua sarebbe stato da comprare dall'altro che era proprio il giocattolo più costoso per bimbi ricchi invece noi bimbi poveri ci dovevamo accontentare delle versioni pezzotte però questo qua ragazzi lo cioè è stato ce l'ho comprato io l'ho comprato mio padre al tempo quindi ha i suoi anni eh non male non male poi lì dietro beh questo è Sigmeyer di Dark Souls anche questa è originale piccolina ovviamente e lì dietro volevo farvi vedere questa è fissa ragazzi non è articolata non si muove è semplicemente a piedistallo sta lì là dietro c'è la serafina di Sacred 2 questa era dentro all'edizione da collezione per Xbox o computer non mi ricordo una delle due e c'era appunto un artbook c'erano un paio di gioielli finti tipo due anellini una collanina e c'era la la minifigure della serafina e anche questa è molto vecchia l'ho usata un sacco per giocarci questa qua infatti la spada è piegata le ali sono piegate insomma ha visto tempi migliori ecco poi quello lì questo qua che vedete inquadrato è un cyclorian qua per molti di voi sembrerà arabo questo qua era un giocattolo diciamo a trottola praticamente come i Beyblade infatti poi vi faccio vedere anche quelli ma questo qua diciamo era un si diciamo non un clone perché in realtà non ha niente a che vedere con i Beyblade era un'altra roba semplicemente sfruttava la cordicella il fatto che lo tiravi lì dietro alle braccia c'è una fessura appunto dove si inseriva il cordino quello del dentellato come quello dei Beyblade tu lo tenevi dalla testa dalla testa lì proprio e tirando il cordino lui girava ma solo nell'anello quell'anello lì vedete vediamo se riesco a non far danni quell'anello lì quell'anello lì che sembra tipo le mutande sue quello li gira e appunto lo trasformava in una trottola e tu gli lasciavi le braccia attaccate o gliele staccavi e li facevi lottare questo qua era quello nero del cattivo della storia giocattoli anche questi introvabili non li ho mai più visti erano sei o sette li avevo tutti ma si sono spasciati l'unico sopravvissuto è questo qui che tra l'altro ha pure una spallina non sua perché le spalline dovrebbero essere viola invece una è nera veniva da un altro cyclorian vabbè peccato chissà dove è finita la sua originale poi qua abbiamo due beyblade della takeratomi anche questi originali sono ovviamente dragoon e non mi ricordo dra dra dransien dra dra draziel non lo so non mi ricordo non mi ricordo il nome comunque vabbè questi due qua di questi non ho più né i cordini né i thrower i lanciatori peccato vabbè avevo proprio la pistola col manico per lanciarli peccato chissà dov'è finita mentre qua abbiamo un altro pezzo abbastanza interessante questo è kratos della della prima versione quindi quella spartana con ceneri bianchi appiccicate addosso tatuaggio rosso cicatrice lame del caos e faccia intercambiabile lui è anche questo originale sempre neca però ormai è molto vecchio anche questo qua le giunture delle ginocchia stanno un po' cedendo infatti lo tengo seduto così non perché mi piace tra l'altro è una posa figa in realtà ma più che altro perché non sta più in piedi quindi così sta su e sembra che abbia diciamo il suo perché ecco poi vano a destra c'è qualcosa del mondo anime c'è vabbè una bottiglia di tè con sel disegnato presa una fiera poi abbiamo freezer forma perfetta della Banpresto future trunks che si mette il guanto bellissimo quel trunks la ragazzi sempre Banpresto poi c'è rosso con Pikachu lo vedete lì dietro a Zarbon si c'è Pikachu appunto che è pronto a lanciarlo all'attacco lì c'è Marco la Fenice preso in un mercatino dell'usato è piccolissima questa figure ragazzi ma è bellissima c'è ha un livello di dettaglio assurdo per le dimensioni tra l'altro Marco uno dei pochi personaggi che mi piace sta su grazie a quel blocchetto di plastica lì che ha le fessure per i piedi lo agganci così lui sta in piedi molto molto bello rapporto dimensione dettaglio perfetto poi qui c'è Zarbon questo è un portachiavi ragazzi aveva in testa un anellino che io ho svitato e sta in piedi benissimo anche questo preso in una fiera o in un mercatino non ricordo poi qua invece ci sono due due oddio come definirle questi qua non sono figure sono tipo adesivi su plastica trasparente che stanno su grazie appunto a un piedistallino sono Bulma di Namek e Gohan con suo padre nel corpo però di Giniu quindi molto simpatica questa cosa qui che appunto è quel flash che Gohan ha quando vede suo padre dentro al vecchio corpo danneggiato del capitano Giniu infine qui c'è Yanco morto dopo l'attacco dei Sai Baiman durante la saga dei Saiyan molto bella questa figure piccolina anche questa ma super super dettagliata tra l'altro c'è pure quella in versione partita di baseball di Dragon Ball Super con lui nella stessa posa però con la divisa da baseball che è tipo un tributo alla vecchia saga dei Saiyan nella parte nuova di Super voglio prendere anche quella così poi le metto vicine ci sta fanno la loro bella figura ecco poi qui sotto sotto ai piedi di Kratos c'è vabbè ci sono i Gundam quello di Amuro Rei eccolo lì con piedistallo lo Zaku col Mitra là dietro c'è Jig quello non è un modellino però è una figure penso di quelle che uscivano in edicola mi pare presa a una vecchia fiera anche quello lì e qua c'è il il Barbatos di Iron Blood Orphans con il bazzuccone poi qua ci sono Luigi con il potenziamento Todd questa viene da Mario Kart lui si si inseriva nel nel Go Kart praticamente ma quello l'ho perso non ce l'ho più mentre quello lì di fianco sempre con la faccia di Luigi è un dispenser di caramelle che ha penso più anni di me dentro ci sono ancora le caramelle di quando è stato comprato penso si saranno tipo solidificate saranno diventate tipo cemento credo vabbè poi abbiamo la chiave di Hortank no non è vero questa è la chiave di Thorin che apre la porta sulla montagna per entrare a Erebor dalla porta di servizio no che in realtà è una penna è una penna biro e quello lì è una statuetta di Super Mario che si trovava negli Happy Meal di McDonald's e ogni fa e c'ha un interruttorino bisogna mettergli le pile e diventa è un led praticamente fa una serie di luci colorate ecco poi ho ancora qualcosina aspettate che faccio un altro taglio tattico ecco qua questo era sulla scrivania questa è una tazza ovviamente si apre così eccola lì vedete ci mettete il latte il caffè quello che volete ed è ovviamente la testa di un Gundam presa su tipo Wish a 4 euro una cosa del genere ovviamente originale manco per il cazzo poi abbiamo la moto di Kaneda quindi direttamente da Akira questa è fatta in Megablocks quindi tipo tipo Lego anche questa dubito fortemente che sia originale ragazzi l'ho presa tanti anni fa e mi sembrava bellissima infatti è bellissima ma credo credo che boh non abbia neanche mezzo diritto però ci sta si aggancia a questa basetta qui lì c'è l'adesivo e appunto era da montare non c'era il pupazzetto di Kaneda però era solo la moto anche questa pagata poco tipo una decina di euro credo una cosa del genere e per finire ragazzi questo è il pezzo più forte di tutti credo questa è una 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 figure completamente snodabile e intercambiabile di Zarbon ne ho viste pochissime di Zarbon originali ovviamente e quando ho trovato questa in celofanata l'ho presa l'ho aperta per provare a cambiargli le teste poi l'ho richiusa e ho riapplicato di nuovo i sigilli così sembra appunto mai aperta ed è una Tamashi originale l'ho pagata una cifra probabilmente era sovrapprezzata perché difficile da trovare importata e tutto quindi sicuramente l'ho pagata almeno 30 euro in più del suo valore però sti cazzi Zarbon è il mio personaggio preferito di Dragon Ball e non potevo non averlo in questo formato cioè praticamente dettagli uno a uno è meglio del manga vero? cioè anche le facce guardate c'è la faccia che urla la faccia incazzata la faccia che soghigna c'è la sfera del drago che gliela puoi mettere sotto braccio come nel cartone no? unica cosa purtroppo non c'era la trasformazione esiste perché ho cercato su internet e della stessa tipologia quindi stesso packaging stessa marca esiste Zarbon mostro ma non si trova porca miseria out of stock dappertutto non riesco a trovarlo ma io non mi sono ancora reso prima o poi avrò anche la versione mostruosa a costo di pagarla anche 300 euro vedete lo potete mettere in posa fa le mosse fa l'esplosione elegante dai calci tiene in mano la sfera cioè veramente bella questa figure probabilmente è la più bella che ho prossima domanda di Ciro Carotenuto tell me sig sig qual è la tua piattaforma streaming preferita continua così sei il mio youtuber preferito grazie mille Ciro la mia piattaforma streaming preferita beh sicuramente quella che uso di più è Crunchyroll perché ci escono tutti gli anime io guardo tantissimi anime quindi principalmente uso tanto quella però non so se è la mia preferita anche Netflix non mi dispiaceva Netflix la diciamo la accendo e la spengo in base a quando mi serve faccio un abbonamento magari un mese poi lo disdico poi me lo rifaccio se c'è qualcosa di interessante insomma la uso a intermittenza però in realtà non mi dispiaceva come proprio come piattaforma anche dal punto di vista del di come la usi di come è strutturata di come ti propone le cose se no mi piace anche Ulu Ulu sì Ulu è una piattaforma di film con però roba molto di nicchia molto artistica e meno meno commerciale meno mainstream ecco sono quelle cose un po' elitarie un po' un po' artistoidi ecco carina anche Ulu però principalmente visto che uso tantissimo Crunchyroll me la sono un po' fatta a piacere ecco quindi sì forse ti direi Crunchyroll anche solo per il tempo che che ci passo sopra ecco bene ragazzi miei direi che anche per oggi abbiamo finito le domande non erano tante ma c'era il tour delle action figure che diciamo ha rubato un bel po' di minutaggio detto ciò io vi ringrazio come sempre per tutto quanto per le views per i commenti per i feedback è sempre tutto molto apprezzato ragazzi e soprattutto so che non è dovuto quindi ancora di più i miei sentiti ringraziamenti niente come sempre statemi bene mi raccomando date un'occhiata al mio libro se ne avete voglia e noi ci becchiamo come sempre alla prossima ciao